Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Molto molto bene, nel video di oggi vediamo le date di pagamento dell'assegno unico, del reddito di cittadinanza, delle pensioni, bonus, carta acquistiche. Ma sta carta acquisti, ma la state chiedendo in tantissimi, mi state dicendo addirittura, ma anche fine ha fatto. Ma in realtà la carta acquisti è lì tranquilla che continua ad andare avanti per gli affari a ci suoi, quindi sulla carta acquisti sinceramente io non ho avuto nessunissimo tipo di problema, è ancora lì, anzi addirittura dopo vi dico anche le date di pagamento, quindi carta acquisti è lì tranquilla. Partiamo subito con l'assegno unico, perché la data calda prevista è quella del 28 di marzo. Poi ci sono altre date, altre date calde e quelle lì, anzi più che date calde sono già passate, quindi se ve le siete persi magari potete andare a controllare che magari sono arrivati e non ve ne siete accorti. Le altre date erano quella del 21 di marzo, quella del 23 di marzo e quella del 24 di marzo. Poi abbiamo il reddito di cittadinanza, che il pagamento è in arrivo per il 27, quindi praticamente lunedì 27. Sempre per quanto riguarda RDC, ma in questo caso la PDC, quindi la pensione di cittadinanza, anche questa è prevista per il 27 di marzo. Ora veniamo alla carta acquisti. Il pagamento è già iniziato, alcuni l'hanno già ricevuto al 22, altri il 23 e poi comunque ci sono altre date di accredito che arriveranno da lunedì fino alla fine di marzo, quindi è facile che nei prossimi giorni chi ancora non l'ha ricevuto la riceverà tranquillamente. Apro solo una piccola parentesi, visto che mi sta venendo un po' il dubbio di chi mi sta chiedendo appunto, ma io ho carta acquisti e non l'ho ricevuta, come mai? Non è che per caso non avete aggiornato i dati, l'ISEE, piuttosto che sono cambiati i valori, non è che per caso è quello, oppure visto che, non so, potrebbe essere cambiato qualcosa. A me viene anche il dubbio che magari sarebbe anche il caso di chiamare un attimino il centralino telefonico dell'Inps, ma giusto così per capire che fine ha fatto la vostra pratica. Ora vediamo il bonus 150, il pagamento di questo bonus è già stato fatto dal 6 di marzo e anche dal 17 di marzo, quindi è già un po' che sta andando avanti questo pagamento. Ovviamente non sto a raccontarvi tutta la storia del bonus 150, comunque era per chi era in Narspi a novembre 2022, chi aveva la disoccupazione agricola, eccetera, 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 già detto tante volte. Poi altri accrediti comunque erano stati pagati il 21, il 22 e il 23 di marzo. Poi andiamo avanti con la Narspi perché anche per questa ci sono nuove date di pagamento e le nuove date di pagamento sono previste con l'ultima settimana di marzo, quindi dal 27 in avanti. Per ultimo vediamo il pagamento delle pensioni per chi la ritira in posta e ci sono le date sabato primo di aprile, ovviamente solo la mattina perché il sabato le poste solo la mattina, nel pomeriggio sono chiuse, poi lunedì 3 di aprile, martedì 4 di aprile, mercoledì 5 di aprile, giovedì 6 di aprile e venerdì 7 di aprile. Quindi segnatevi queste date è ovviamente sempre in ordine alfabetico, io non l'ho detto ma comunque sempre in ordine alfabetico da A alla Z. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, ricordatevi come sempre di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E poi vi ricordo anche di seguirmi su Instagram perché anche su Instagram faccio anche altre cose. Va bene, si parla di bonus, di questo, di quell'altro, subvenzioni, IMS, agenzia in tante, ma non solo, anche altri, ogni tanto ci metto in mezzo anche qualcos'altro. Insomma, mi porto con me a vedere quello che faccio, quindi seguitemi anche su Instagram. Con questo è tutto, noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre e solo, sull'unico canale originale di YouTube, il mio, vi aspetto. Ciao!